Sostenibilità, rispetto per l'ambiente, design italiano dal 1968. Epoca Spa, nebulizzatori, pompe a pressione e tutto per il giardinaggio. Epoca Spa, visita il nostro sito www.epocaspa.com Amici di Scratch, bentornati con un altro video. E' un'altra bellissima puntata, anche molto molto lunga. Oggi avremo quasi, anzi direi più di due ore da passare insieme. E' la stagione del ciclocross, quindi partiamo con tutte le gare di questa settimana, in primis con la seconda tappa del trofeo Triveneto di ciclocross da San Canzian di Sonzo, in provincia di Gorizia. Via la clip! Immagini da San Canzian di Sonzo, Gorizia. Questa è una bella organizzazione, diciamo, che sono proprio alla prima esperienza. Però, se tra poco vedrete le immagini, vi rendete conto che hanno guardato molto nelle altre gare e hanno saputo ben rubare il mestiere. Ponti, ponti artificiali, ma poi vedremo anche i ponti, quelli là, naturali. Questo è il momento in cui c'è la riunione tecnica. Cara Ilenia, intanto ti do il benvenuto. Ciao a tutti. E qua, abbiamo detto, questi ragazzi qua hanno fatto qualcosa di eccezionale, tu l'hai potuto vedere. Sì, tra l'altro prima esperienza per loro, ma hanno creato... Una city. Una piccola cittadina all'interno, appunto, di San Canzian di Sonzo. Intanto con le immagini siamo alla partenza degli amatori della fascia 2 e degli amatori della fascia 3, che hanno corso da soli. Bel percorso, molto da guidare, molto molto tecnico, lo vedremo. E' molto difficile per questo, perché veramente era un rilancio continuo, era difficile fare grandi velocità e, a mio avviso, sono state tutte gare molto belle, molto combattute. Qua andiamo a vedere un po' i leader, dai da Pretto, per Inazzi, per quanto riguarda la fascia 1, per la fascia 3. Beh, certo, il mio Beppodo è grande, che il mio cuore gli appartiene, perché è colui che mi ha fatto ispirare. L'ho detto anche settimana scorsa, lo vediamo dalle immagini, insieme a un certo Mariuzzo che, insomma... Io ho detto settimana scorsa, non so se ho detto una sciocchezza, Ilenia, da te voglio il conforto, che i ragazzini prendono spunto da questi e questi qua sono quelli che insegnano veramente ad andare in bicicletta. Beh, loro sono la storia un po' del ciclocross, anche Beppo, insomma, ha fatto tanti anni da dilettante e ad altissimi livelli, quindi hanno un po' la scuola vecchia del ciclocross. Molti di loro, infatti, saltano ancora le tavole a mano, quindi scendendo dalla bici. Invece, se andiamo a vedere le gare degli elite, possiamo vedere proprio le diverse generazioni e poi lo vedremo, dove magari c'è chi salta bici in spalla e chi invece fa il bunny hop. Intanto vediamo la gara degli amatori della fascia 2 con Giampiero D'Apretto e Fabio Perin. Perin, anche lui, papà d'arte, perché, insomma, molto spesso in queste categorie, lo ricordiamo, ci sono i papà e poi più tardi corrono i figli. Dietro un gruppetto con Azzi, Rizzi, Brumat, Lokinar, perché tornano gli sloveni anche qui a correre, Andrea Grigolini, Paolo Perini, insomma, tutti gli atleti che abbiamo imparato a conoscere negli anni. Sloveni che sono proprio un tiro di scopo, qualche chilometro. Pochissimi. E la benzina costa un po' meno anche. È un po' meno, però è aumentata, è 1,4 il gasolio anche in Slovenia. Beh, qua c'è un po' da correre in più rispetto alla tappa precedente, soprattutto hanno creato quella piccola lingua di sabbia che non guasta e quindi anche qua ha contentato un po' tutti i gusti. Sì, diciamo che è veramente molto tecnico come percorso. Intanto Mariuzzo ha preso un po' le reddini della corsa degli amatori della fascia 3. C'è Giuseppe Dal Grande, c'è Sante Schiro da tenere d'occhio per gli amatori della fascia 3, Andrea Zamboni. È un percorso veramente dove non puoi sbagliare, perché penso di aver contato una roba come 50 curve in un giro e quindi è un rilancio continuo, non hai grandi possibilità, se non in questo tratto qui che abbiamo visto adesso, di far velocità. Devi sempre costantemente rilanciare e devi saper lasciare andare la bici. Al di là delle gare che sono commentate, le possiamo commentare, non sono tanto affollate, poi vedremo gli uno, lì ci sarà un'altra cosa da dire, però hanno creato un piccolo paesello, nel senso con un centro dove c'era una struttura che poteva rifornire, di mangiare, di bevande. C'era il cibo, esatto, i bambini potevano giocare. Potevano giocare, ecco questo secondo me è la condizione sine qua non perché possa funzionare il ciclo croce. Ma assolutamente sì, si è tornati un po' a quello a cui eravamo abituati negli anni, ecco qua è stata la prima esperienza con il nuovo decreto, quindi ovviamente chi era dentro aveva tutti i santicrismi per poter stare dentro, perché magari qualcuno guarda, dice come mai, eccetera. Eh come mai, però ci sono anche tanti casi dove dicono, ah liberi tutti. Eh no, qui c'è stato il controllo e giustamente com'è da nuova normativa, quindi tutte le persone che comunque erano all'interno erano anche tutelate da quel punto di vista lì, quindi è vero, c'era della gente a mangiare e in mezzo al percorso c'era appunto lo stand che ha fatto da mangiare lungo tutta la giornata, però insomma era tutto abbastanza normato, ecco. Apro e chiudo la parentesi, ci sono delle norme, le regole non ci piacciono, ci piacciono, ma le regole vanno rispettate, come le hanno rispettate qua i ragazzi di San Canziano, vanno rispettate dappertutto, perché sennò alla fine diventa anarchia, a me questo non piace. Assolutamente sì, tanto abbiamo visto il passaggio appunto di Giampiero Dapretto, Dapretto che ha preso un po' di margine nei confronti di, dovrebbe esserci Fabio Perin dietro a lui, eccolo qua, Fabio Perin con Roberto Azzi, quindi una bella lotta per il secondo e terzo posto tra gli amatori della fascia 2. Tanto io ringrazio il team Isonzo ciclistica Pieris e voglio anche salutare Baldassi Amelia e Pividori Isabello, giudice d'arrivo e l'altra presidente di giuria. Sì, c'erano tutte donne sul palco con Flavia Bizarro, tra l'altro alla prima esperienza da speaker, lei che ha fatto praticamente, ha commentato tantissime gare nel mountain bike, è stata anche la speaker quest'anno dei campionati. Non alla prima esperienza. No, 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 assolutamente non alla prima esperienza. Flavia io la conosco da tantissimi anni, ha commentato tante edizioni della Tilliment, poi ha provato al mountain bike e quest'anno è stata la voce dei mondiali marathon a Capoliveri, quindi assolutamente una professionista di tutto rispetto. Beppo Dal Grande che continua e sta cercando appunto di mantenere la terza posizione, davanti, lo ricordiamo, c'è ancora Gianfranco Mariuzzo, come vedete un percorso dove in effetti i rettilini erano pochissimi, quindi c'erano al massimo dei tratti di 30-40 metri, poi c'era ovviamente la curva e dovevi continuare a rilanciare. Quanto è importante anche per gli amatori, ma per tutte le categorie, vedere la trasmissione sanno quando va in onda, la precisione, non è che voglio dirmi che voglio guantare. È importantissimo perché hai un punto di riferimento, guarda io ho parlato, ho avuto la fortuna di appunto di venire nelle ultime due gare e spero di riuscire a incastrare tutto quello che devo fare con la mia passione più grande che comunque venire alle corse ed è un appuntamento atteso da tutti, perché comunque sai che a quell'ora, il giovedì alle 21, puoi guardarti, guardi il ciclocross e guardi tutte le categorie. Perché uno può avere tante fidanzate, fa l'appuntamento, però la fidanzata non si presenta e ci rimani male. Ebbè è ovvio, poi sai cos'è che comunque il bello del ciclocross è che qui veramente ci sono tutte le categorie, quindi ovviamente anche dal punto di vista televisivo non è facile da seguire, sicuramente con questo format spero che ci sia anche prossimamente nelle altre tappe regionali del Triveneto, perché intanto io spezzo una lancia a favore delle donne master, siamo poche e quindi è bello correre con l'elite, ma poi è bello anche per loro qui correre ovviamente da soli. E andiamo con Giampiero D'Apretto, fascia 2, vince e convince su Fabio Perin, Roberto Azzi in terza posizione e poi seguono le altre, lavora anche un po' tu. In quarta posizione abbiamo Riccardo Brumat, quindi Giuliano Rizzi in quinta, Bojan Lochner in sesta, Andrea Grigolini in settima, Paolo Perini in ottava, Mario Formaggiari in nona e Ezio Marani chiude la Totten per quanto riguarda gli amatori della fascia 2. Ma... Eh, che Mariuzzo vince, straconvince, abbiamo detto un treno a vapore, va via come una lippa. In seconda posizione Sant'Eschiro, che lo vediamo adesso, dovremmo vederlo un po' arrivare, quindi Giuseppe Dal Grande, Andrea Zamboni, Mauro Braidot, Giovanni Parro, Mauro Bastiani, Marino Bon, Luca Paoli e Diego De Cecco. Questa è un po' la compilation, vediamo intanto proprio l'arrivo di tutti i concorrenti, lo facciamo non sempre, tanto per darvi confidenza, per vederci tutti, poi dopo pian piano cercheremo di portare a 5 gli arrivi, perché se no ragazzi non finisce mai, però è un cadeau che vogliamo dare oggi e intanto consacchiamo Beppo Dal Grande, la mia simpatia. È arrivato Sant'Eschiro, che abbiamo visto con la maglia viola, e poi Beppo Dal Grande in terza posizione. Questi sono i ragazzini che si divertono, anche fuori dalla gara. E adesso andiamo con le categorie giovanili, siamo sempre a San Canzian, e vediamo le organizzazioni del Team Ciclistica, Pieris, uomini e donne esordienti. Esatto, ovviamente esordienti al secondo anno, lo ricordiamo, perché i G6 passeranno esordienti primo anno dal primo di gennaio, quindi non li vediamo in questo momento. Non ce ne vogliate se non li mettiamo in onda, è una scelta nostra che abbiamo adottato tantissimi anni fa. Insomma, con gli esordienti è già tanta roba. C'è un bel gruppo di esordienti, considerando le concomitanze. Meno donne però, come mai? Perché probabilmente magari tante sono andate a fare la tappa del Giro d'Italia, ci può stare. Insomma, dipende un po', sai, poi quest'anno dovremo abituarci alle concomitanze, perché comunque è un calendario molto ricco. Ci possono essere anche due gare nazionali nello stesso giorno, quindi ovviamente ci sta, insomma, giustamente come è stato scelto in abito federale, di supportare le squadre, quindi di cercare di non appesantirle di viaggi inutili. Quindi chi vuole, ovviamente, può viaggiare molto, chi invece preferisce correre vicino a casa, ha la gara vicino a casa. E qua vedo una grande squadrone, la DP 66, sono lì in una flotta continua, chissà se arriveranno tutti insieme, oppure una seconda, l'altra... Ebbene, le donne, sono tantissime le atlete della DP 66, negli esordienti al maschile invece, ci sarà sicuramente una bella lotta, perché come vedete il percorso, ripeto, non è da grandissime velocità, però non fa neanche tantissima differenza, intanto vediamo proprio il trenino delle quattro della DP 66. È un po' cambiato il mondo, però io sono sicuro che oggi va meglio, cari Lenia, perché una volta c'era soltanto il trofeo Trivenetro, più di 40 anni, e dovevano farsi i 700-800 chilometri, per fortuna adesso tante gare vengono fatte. Ci sono tantissime gare, anche la settimana prossima ci sarà appunto la gara nazionale a Bolzano, ma ce ne saranno altre sul territorio, ci sarà in Lombardia un appuntamento, ci saranno gli appuntamenti in Centro Italia, in Toscana, quindi diciamo che in epoca post-Covid, secondo me, è una scelta molto azzeccata. Dovremmo abituarci a vedere meno numeri, ma forse va meglio, perché comunque c'è un protocollo che l'anno scorso è stato difficile attuare, perché quando hai 600-700 partenti, oppure hai 200 allievi, devi sempre smembrare le gare, invece così diciamo che diventa tutto un po' più snello, poi quando passerà anche questa pandemia, magari ritorneremo ad avere le gare popolate da 1000 atleti, però secondo me io preferisco 1000 gare da 400, anche perché così incentivi anche quello che non ha mai provato il ciclocross. Di davanti abbiamo Giacomel e Zanandrea, che sta recuperando molto anche in questo tratto di sabbia, e mi fa piacere perché il gruppo sportivo Mosole è votato, è votata al ciclocross. Aspettiamo sempre il caro signor Remo Mosole che ci faccia una tappa del trofeo trivedo, del mastercross, quello che vuole. Alle bandie, è un posto storico, l'ultima edizione è stata molto molto bella. Devo farti una domanda, Ilenia, che faremo anche quando verrà Massimo Ghirotto, qua, intanto vediamo la domanda. Anna Rita Calligaris, che è davanti con Camilla Murro. Stanno dominando la DB66. Il grave, abbiamo visto alcune cose, molto interessanti, sarà concorrenziale al ciclocross? No, perché in teoria dovrebbe essere svolto durante la stagione su strada, quindi assolutamente no. Anzi, secondo me diventerà bacino di utenza dei pro del ciclocross, quindi vedremo dei pro del ciclocross che si buttano e affronteranno questo campionato. Rischia di dire una cosa del genere, però se c'ha zecchi vuol dire che... Se c'ha zecco ci avrò visto lungo, però comunque le impressioni sono quelle. Arrivi con Leonardo Zanandrea del GS Mosole, che batte il compagno di squadra Riccardo Giacomella. Poi dobbiamo attendere una ventina di secondi per vedere Filippo Grigorini della James Bike Team di Buia, Lorenzo Rado, San Fiorese, quindi Luca Frontini del team Valle Orona, Daniele Leoni, Gioele Tonizzo, Thomas Mariotto, Giovanni Gobbetto, Flavio Dispensa per i primi dieci. Attendiamo anche l'arrivo delle ragazze dove c'è un filotto, qui vedo, di DP66. Praticamente le prime cinque sono della DP66. Sono lì tutte insieme, che stanno veramente immaginando metri su metri. Eccola qua. Anna Rita Calligaris, che va a vincere per quanto riguarda appunto le ragazze esordienti, su Camilla Murro, che saluto perché è anche la figlia di una mia carissima amica. Magdalena Mitan Giulia, eccola qua, in terza posizione. Quindi Nicole Canzian, in quarta. Carlotta Pretis, in quinta. Arianna Casagrande, in sesta. In settima, Anna Laura Benuzzi, in ottava, Caterina Montagnese. Ed è compiuto anche questa gara riservata agli esordienti maschi e femmine. Vediamo questa lunga scia DP66. Intanto gli uomini al lavoro, quanti importanti sono questi volontari. Intanto andiamo con le premiazioni. Ricordiamo che era anche campionato regionale. Eh sì, era campionato regionale Friuli-Venezia-Giulia, quindi anche una gara top class. Questo sempre bene, perché così poi, ovviamente, lo ricordiamo, le classifiche top class servono per avere il punteggio poi per partire davanti nei prossimi appuntamenti nazionali e ai campionati italiani. Noi vediamo queste belle immagini di P66, completamente invade il palco delle premiazioni, insieme al nuovo, anche al nuovo consigliere, anzi vicepresidente della regione Brancati, regione Friuli-Venezia-Giulia, tanta roba. Adesso andiamo invece con la gara dedicata agli allievi. Ecco qua, sono partiti allievi al primo e al secondo anno e le donne allieve. E le donne allieve, un po' più affollata, va bene. Sì, beh, teniamo conto che normalmente avevamo delle gare da 200 atleti, quindi è affollata, però per fortuna è affollata in un numero giusto, ecco, perché sicuramente percorsi magari come quelli di oggi fossero stati affrontati da 200 allievi sarebbe stato difficile, perché poi dal primo all'ultimo veramente c'è mezzo giro di differenza, invece così insomma tutti riusciranno ad esprimersi al meglio. Abbiamo detto, sono partite adesso le donne allieve, anche qua la partenza come al solito deve essere velocissima, poi si addentreranno in questo boschetto veramente bellissimo, dove addirittura perdevi un po' il senso dell'orientamento, molto bello. Con queste case a me piacciono tantissimo, popolari, dove si respira ancora veramente qualcosa che a me è un po' nostalgico, perché è molto bello con la sistemazione architettonica di case popolari che avevano rispetto del verde, ma questo 60-70 anni fa. Ma tra l'altro hanno veramente fatto un percorso in pochissimo spazio, è molto molto bello, perché comunque intanto abbiamo visto Federico Ballatore con Patrizio Battisacco, anche qui un duo del predale manzanese, il comando tra gli allievi al primo anno, mentre la situazione per quanto riguarda gli allievi al secondo anno vede un gruppetto di atleti, Pavanello, Palludagnac, Fantini, D'Alessandro, Palluber, insomma sono poche se la possono... È un nome noto? ...giocare, sì, sì, è un nome noto sì, perché comunque è parente di di Hannes e dell'ex CT Ubi. Donne allieve con Martina Montagnier, Alice Sabatino, Sabrina Rizzi per la James Bike Team di Buia che vediamo adesso. Questo era un tratto difficile perché comunque andava leggermente in salita e poi dovevi comunque rilanciare e scendere e molti ragazzini hanno fatto anche un po' di spettacolo facendo anche qualche scodata, qualche saltino. Bunny Hop? No, il Bunny Hop è un'altra cosa perché qua tavole da saltare non ce n'erano, però diciamo che comunque era un percorso... Hanno fatto dei dissuasori di velocità? Sì, beh questo sì perché sennò diventava pericoloso devo dire la verità, quindi alla fine è stato fatto bene e ripeto in poco spazio hanno fatto un gran bel percorso. Benissimo, rilanciano le pedalate quanto deve essere anche duro rilanciare per poi dopo mollare. come un treno però rilanciare per poi dopo chiudere quando rilanci hai quei 70-80 metri i sfoghi ma qua ne hai veramente pochissimi 30-40 metri qui avevi pochissimo dovevi essere sempre il rilancio ma soprattutto dovevi saper guidare e lasciare andare la bici perché poi se notate magari lo noteremo poi anche con gli elite bisogna pedalare in curva e questo la dice lunga su come è importante il ciclo cross anche per imparare le abilità normalmente su strada non pedali mai in curva se non vai per terra qui impari a pedalare in curva un po' come nella fix con lo scatto fisso tenendo conto che c'erano delle curve anche abbastanza impegnative riuscire ad uscire dalla curva in velocità e a continuare a pedalare voleva dire comunque guadagnare qualcosina viene una domanda da farti quanto importante è pedalare in curva e quanto serve anche sulla strada vediamo quanti atleti scivono nelle curve perché iniziano a pedalare troppo presto beh sì il cross ti insegna anche un po' a restare a restare in piedi in certe situazioni e anche a correggere eventualmente determinati errori davanti Martina Montagnier per DP66 l'inseguimento Alice Sabatino Sabrina Rizzi poi Nadia Casasola e Eleonora Deotto queste sono le prime cinque donne allieve mentre vediamo Cristian Fantini della KTM Brenta Bikes la squadra di San Parisi che ha cambiato body quindi dobbiamo abituarci un po' a questo nuovo body tutto black tutto nero sta andando molto forte quindi a Giorni dove mi pare che la Baroni torni a correre si tornerà a correre Francesca Baroni abbiamo sentito appunto Simone proprio qui a San Canziano quindi prossimamente appunto Francesca Baroni sarà in gara belle immagini splendide grazie a Gianni Alessanto perché lui sa esattamente cosa vuol dire il cicocross ma d'altronde sono quasi 25 anni che andiamo avanti e se non avessimo imparato sarebbe dura e grave adesso sarebbe difficile anche imparare a 60 anni a lievi al primo anno grazie Ilenia prego Ballatore Battisacco Argenton Granzotto e Zigliati questi sono i primi cinque ragazzi per quanto riguarda il primo anno mentre vediamo appunto Cristian Fantini che si avvicina ormai alla vittoria a un margine di 20 secondi che sembrano pochi però in un percorso così sono già tanti a questa età ha dominato dall'inizio alla fine però non vuol dire nulla perché qua si cresce di anno in anno e quindi tutte le cose si azzerano facilmente sei mesi in sei mesi sì vediamo proprio anche differenza di corporatura ad esempio tra Fantini e Jacopo Pavanello per fare un esempio Donne Allieve ancora davanti Martina Montagnier però è lì attenzione perché comunque sono lì le altre eccole qua Alice Sabatino e Sabrina Rizzi per James Bike Team di Buia un Pontonini in America un Bielli a Roma cioè a Roma a Sant'Elpidio a armare con la gara del Giro d'Italia di Ciccocross qua la moglie di Pontoni anch'essa Pontoni che cura i ragazzi insieme a tutti quelli che hanno organizzato la Coppa Europa a Jesolo dove mi sono anche tanto divertito a te la parola vediamo Cristian Fantini che ormai è vicino appunto all'ultimo tratto quello che avrà la sabbia da affrontare era comunque una sabbia che si affrontava benissimo insomma bastava avere un po' di core stability Alessandro Bigliani sembra fare le sue foto dietro invece una bella lotta per il secondo posto con Jacopo Pavanello che oggi mi sembra molto molto più impante attenzione però anche a Palludaniac e a Nicolò D'Alessandro e Niklas Palluber e David Sanini intanto abbiamo visto una caduta tra i due del primo anno Ballatore e Battisacco che sono praticamente toccati e si aspettano anche però insomma sono amici tutto è rientrato in terza posizione Tommaso Argenton quindi Simone Granzotto Enrico Zigliatti e Tommaso Carli questi sono i primi degli allievi al primo anno vittoria invece tra gli allievi al secondo anno dobbiamo attendere Cristian Fantini che arriverà Cristian Fantini KTM Brenta Breaks su Alessio Padugnac quindi Jacopo Pavanello Nicolò D'Alessandro Niklas Palluber David Sanin Nicola Battain e Diego Niembrini Niembrini mentre per quanto riguarda le donne le vediamo adesso Martina Montagnera di P66 vince convince però era veramente lì Alice Sabatino 3 secondi James Baiting di Buia Sabrina Rizzi in terza posizione quindi Nadia Casasola Eleonora Deotto Ania Capovilla Paola Tarolli Pietra Barattin e Emily Dander adesso vediamo il podio delle prime azioni è un'altra Casasola che mi ispira qualche mi viene in mente qualcosa ti rimembra qualcosa mi rimembra qualcosa anche se sono anziano però mi rimembra qualcosa intanto il podio anche qui campionato regionale per quanto riguarda il comparto della regione Friuli che hanno comunque ripeto organizzato una gara strepitosa adesso andiamo invece con gli junior esatto questa è la follata come la chiami tu è un po' follata però non ci sono gli amatori della fascia 2 e 3 quindi ci sono gli junior ci sono le donne tutte e ci sono le donne tutte e basta donne tutte diciamo che correte voi master intanto una Deborah Soligo in grande spolvero sono molto contento tornate la Anna Oberparleiter quando l'ho vista mi si è aperto un pezzo di cuore perché è una ragazza fantastica di un'educazione esagerata e intanto partono gli juniores anche qui una bella lotta attenzione insomma il figlio d'arte Tommaso Tabotta ma c'è lì a Mares ce ne sono tanti insomma che già si sono messi in luce alla prima tappa del Giro d'Italia di Osoppo e alcuni sono saranno sicuramente protagonisti partono anche le donne anche qui c'è un po' da vedere anche la condizione di Anna Oberparleiter che dopo l'appuntamento mondiale l'abbiamo visto in Val di Sole con le bike fatto un po' di pausa e quindi sarà interessante capire a che punto è Anna beh noi l'attendiamo sempre più che volentieri questa che è una grande atleta che secondo me facesse soltanto la ciclocrossista avrebbe fatto tante cose più perché lei adesso lavora quindi ormai adesso lavora però secondo me si toglierà delle belle soddisfazioni come Ponta come Ponta che è tornato come Pelizzon che fa il fascia 1 però si sta togliendo delle soddisfazioni insomma ognuno nelle sue competenze e guarda che bella questa immagine qui era una discesa c'era praticamente la discesa proprio rotta di collo contropendenza c'era la contropendenza ma bel discesone anche abbastanza carino e qui Tabotta che subito ha cercato di forzare il ritmo dietro Elia Mares Filippo Gallio Alessandro Mario Dante Luca Toneatti Giorgio Manto questi sono appunto per gli junior mentre le gara donne Anna Oberparleiter con la Zanga quindi c'è anche Marta Zanga e c'è anche Katia Moro quindi sono rimasti in tre ha tirato per tanto tempo Anna Oberparleiter a un certo punto ha detto ma come mai tira così tanto e invece poi dopo vedremo forse si farà un po' tirare anche lei perché ha spreso veramente tante energie beh ma sai un percorso così è sempre meglio essere davanti piuttosto che essere dietro perché ripeto quando poi trovi i buchi fai fatica no? a gestirli e a passare una Deborah Soligo che abbiamo visto poco fa che è rientrata anche lei che è rientrata anche lei che ti guardava come fossi una minaccia e io sono felice per lei perché me la ricordo da ragazzina con queste orecchiette con le orecchiette te le ricordi e vorrei che le mettesse anche oggi perché mi piace tantissimo però sto facendo un percorso interessante molto bello è tornata a correre anche lei dopo la maternità anche se è giovanissima cioè abbiamo potrebbe essere mia figlia la Deborah quindi finalmente vediamo anche delle ragazze master giovani ripeto la formula in queste gare quando ci sono tante concomitanze secondo me è perfetta perché appunto sì siamo poche quindi almeno così corriamo tutte insieme e ci divertiamo anche di più sono d'accordo ma io comunque lo farei sempre tutte assieme in queste gare perché anche quando si è un po' di più le master sono 7-8 non è che vanno a inficiare è peggio secondo me mettere con i master perché là si creano veramente tanti attrime ma come abbiamo visto appunto già a Usoppo che insomma la gara è stata determinata dai vari tappi Tabotta Mares e Gallio insomma qui invece abbiamo Oberparleiter Zanga e Moro sono in tre quindi bisogna stare un po' attenti Lisa Rumac invece è in questo momento in quarta posizione giustamente Anna vedi un po' la classe anche di scendere all'ultimo e guadagna e guadagna prima uscita stagionale per lei quindi un po' anche un banco di prova Lisa Rumac è in quarta posizione assoluta vorrei un voto per questo percorso molto bello molto molto bello intanto Deborah con le prime junior ricordiamoci che tra le junior al momento c'è Gaia Santin con Isabel Caser quindi c'è una bella lotta ci sono anche io che arrivo non eravate distantissime no non eravamo tanto lontane io ho perso un po' il primo giro ma va bene così e dicevo un percorso molto bello molto bello e ripeto spero che il prossimo anno si ritorni qui ma sono convinto di sì perché io ho tanto entusiasmo tanto interesse per cui voglio dire intanto vediamo ancora Tabotta da sola ormai ha un vantaggio anche abbastanza rassicurante ho visto anche il papà ho visto eh sì 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 figlio d'arte anche lui quindi Tommaso Tabotta che è solo al comando ma assomiglia molto al papà come prima è uguale io me lo ricordo mamma mia quindi è uguale lo guardo adesso ma veramente incredibile sembra proprio papà suo ma la mela non è che cade tanto lontano dall'albero bella questa citazione bella mi piace che citazione che ti mollo giù tanto la lotta con Elia Mares della nuova team Monte Grappa insomma squadra nuova Filippo Gallio uno dei fratelli Gallio della Sportivi del Ponte e poi dietro in quarta e quinta posizione Alessandro Mario D'Anza e Luca Toneati altro figlio d'arte anche lui è proprio vero la mela non cade lontano dall'albero questa è una citazione che sarà anche retorica ma bisognerebbe attuarla per tutti i giorni e dall'inizio alla fine della giornata perché abbiamo bisogno veramente di ritrovarci sono contento che ci ritroviamo col ciclocross e posso dire la verità è proprio bello noi ci divertiamo tutti ci chiedono perché perché ma chi te lo fa fare ieri ero la più vecchia qui a Gesi 40 anni c'ero solo io in questa partenza per fortuna potrebbero essere i miei figli ma io mi diverto quindi finché posso e quando potrò è un diritto un diritto Tommaso Tabotta davanti dietro però bella lotta tra Elia Mares e Filippo Gallio veramente qua siamo agli ultimi le ultime tornate prima dell'arrivo bella lotta anche di Nervi tra i due per il secondo queste chicane quindi bisognava assolutamente non sbagliare poi l'ultimo giro che magari sei anche poco lucido ogni tanto qualche spallata qualcuno la prende eh sì quindi abbiamo Alessandro Mario Dante con Luca Toneatti e Giorgio Manto per la sesta posizione Donnellit sono ancora in tre anzi sono rimasti in due è rimasta Anna Oberparleiter con abbiamo visto Katia Moro un po' staccata la Zanga vediamo se riuscirà a recuperare appunto la Zanga mentre Rumac ancora per quanto riguarda la quarta posizione l'amoro ha rilanciato e ho visto la Oberparleiter subito marcato e l'altra un po' ha pagato intanto siamo verso l'arrivo penso di Tommaso Tabotta l'ultima scalinata anche qui era bella la scalinata artificiale tosta tosta sì con tanto di discesa e dietro ancora la lotta tra Mares e Gallio una lotta ripeto anche di nervi prima passa davanti uno poi passa davanti l'altro e come vedete appunto c'erano tantissime curve quindi veramente un percorso anche difficile mentalmente da affrontare se prendevi 10-15 metri staccavi e ciao sì sì facevi fatica a recuperare assolutamente vediamo questa scalinata quarta posizione non hanno mancato in nulla devo dire la verità no no c'era tutto praticamente c'era tutto anche perché comunque così in centro città è un po' difficile trovare dei percorsi stile belgio invece qui hanno messo un po' di tutto hanno messo anche la sabbia quindi bravi 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 per la prima esperienza qualcosa da mettere a posto però direi che ci siamo alla grande assolutamente siamo già in zona traguardo traguardo in questa giornata epica tanto vediamo ultimo giro sempre in tre sempre in tre adesso l'Anna Operparliter è lì che ha detto beh andate avanti voi tanto alle gambe anche tra l'Anna e le altre due ragazze ci sono dieci anni di differenza quindi primo degli arrivi eccolo qua bravissimo Tommaso Tabotta che vince per la James By Team di Buia la gara degli junior dobbiamo attendere 34 secondi per vedere la volata tra i due parte davanti Mares quindi la vincerà perché chi usciva prima dalla curva qui passava davanti quindi secondo Elia Mares Montegrappa SD quindi Filippo Gaglio in terza posizione ancora volata per il quarto e quinto posto con Alessandro Mario Dante del team Bramati che ha la meglio su Luca Toneatti e Giorgio Manto quello mille là in fondo sono io visto come sono dimagrito eh ho visto sì hai camminato avanti e indietro per il percorso quindi Andrea Pizzato in settima posizione Alessandro Gaglio in ottava Kevin Pellegrini in nona e Davide Malfatti in decima tendiamo di vedere quello che succederà per quanto riguarda la gara donne questa non è la gara donne sono ancora ovviamente gli uniores che sprintano per le posizioni ho voluto fare un cadò intanto più grande Martino Fruet ecco le donne elite con la Anna Oberparreiter che è riuscita ad anticipare la volata quindi Anna Oberparreiter che vince alla prima uscita stagionale in seconda posizione Marta Zanga in terza Katia Moro bella gara anche questa vediamo il quarto posto di Elisa Rumac dovrebbe arrivare adesso anche eccola qua Gaia Santin per le donne junior vince Gaia Santin su Isabel Caser terza delle junior dovrebbe essere Alessia Rossa eccola qui quindi Rene De Caneva Anna Bardelle Alice Verri e Giada Marani bellissima gara anche questa delle donne junior comunque veramente entusiasmante adesso arriverà anche la Deborah per le Master Woman si sono montate lo diciamo perché è giusto da dire la Deborah era quinta assoluta quindi noi montiamo invece in base agli ordini d'arrivo Argesi mette in sottotitolo donne vecchie arrivo la Deborah ha 20 anni Argesi quindi Deborah Solivo ogni riferimento era puramente casuale ovviamente era riferito a me team macro e poi arrivo io ecco donne vecchie Lazzaro ecco però insomma dai quando si dice gallina vecchia fa buon brodo dai ebbene non è mica poco insomma ne ho sognato che è arrivata ultima insomma si metti in bicicletta arrivo ultimo ma due giorni dopo considerando che c'avevo 20 anni in differenza quindi direi di sì tanto un po' di paesaggio un po' di monumenti e soprattutto queste belle premiazioni che partono con gli uomini junior eh sì tanta roba anche campione regionale così come Gaia Santin tanti premi tanti premi Oberparleiter bentornata cara Anna ci mancavi e siamo contenti di vederti là qua l'anziana con la bambina potrebbe essere mia figlia eh vabbè beh anche qui qui gara open qui abbiamo tre generazioni abbiamo visto Martino Fruet ma abbiamo Cipriano Gottardi che comunque che non dico niente gli ho riservato un piccolo cadò lei hai fatto un cadò è bene assolutamente abbiamo Federiva abbiamo Marco Ponta quindi abbiamo tanta tanta bella una bella gara anche quella degli open che corrono con gli amatori della fascia 1 sempre abbiamo passione a dirle abbiamo visto i crash questi ragazzi dai Cipriano Gottardi no non esageriamo semmai lui avrà visto crescere me però voglio dire i Ponta e i Pellizzoni tutti li ho visti crescere io tranne Martino che è più vecchio di me beh certo però ragazzi nel 78 ed è ancora lì e se trova la giornata giusta eh ma Martino questi sono i percorsi di Martino eccolo qua Cipri grande Cipri sembra l'ultimo anno da Elite beh lo sento dire da 10 e comunque dai fascia 1 con Nicola Ferrazzo Moreno Pelizzone Iva Galante Campagnolo Vogrig anche qui ci sono tantissimi anni di differenza perché dal primo che ha praticamente 20 anni 25 all'ultimo che ne ha 44 45 io ero là posso dire il rumore che hanno fatto la fascia 1 passando sembravano dei bufali impazziti e sono contento per Pelizzone che ha fatto la scelta di fare un passo indietro con gli amatori secondo me si divertirà di più e avrà molto più soddisfazione beh ma sai lui aveva smesso comunque di correre anche perché ha laureato ha cominciato a lavorare quindi ovviamente ha un ciclista che si laurea è tornato è tornato e ha scelto di tornare amatore intanto Pederiva Ponta questi sono appunto gli atleti davanti per la Open Fruet San Parisi Zampese quindi abbiamo che ha fatto la scelta contraria Zampese è passato dai master agli elite e mi pare che non strafiguri per niente sta andando bene eccole qua due generazioni a confronto qui abbiamo veramente due generazioni a confronto Simone Pederiva che è un under Marco Ponta che è un elite però ci sono parecchiane di differenza fra i due adesso lì dietro arriva anche il nonnino Martino Fruet che lo vediamo adesso a ruota di San Parisi c'è anche Zampese davanti posso parlare di San Parisi anche questi qua votati evocati sono appena tornati dalla stagione mountain bike quindi già essere presenti comunque al ciclocross loro faranno attività internazionale quindi intanto comunque abbiamo avuto piacere di vederli anche qua e mettono su anche un po' di allenamento sulle gambe assolutamente sì e qui possiamo proprio vedere questa parte del percorso molto bella guarda qua Pederiva la fa in bici Ponta scende vecchia maniera eh sì anche Braidot anche lui reduce della convocazione tra l'altro è stato in nazionale per questa gara gravel nuova ed è arrivato anche nei primi dieci un successone bisogna dire la verità speriamo che prossimo anno sia un po' più nutrita anche come atleti perché è veramente stato bello anche da da vedere qua scorriamo un po' tutti gli atleti open così riusciamo anche a vederli tutti fascia 1 con Moreno Penizzone Nicolò Ferrazzo Ivan Galante Flavio Vogrig Stefano Gasparetto Marcello Campagnolo Marco Del Missier ecco lì qui questi scendono tutti di bicicletta anche perché se rompi un cerchio poi lo devi pagare quindi era un po' rischio non sono mica tutti con la mountain bike no diciamo che lì bisogna ma il rituale della sera vorrei vedere io con queste biciclette con quanta cura le metteranno a posto vanno lavate vanno oliate va comunque asciugato tutto perché c'è tanta polvere qui quindi magari il vero lavoro è la sera eh sì assolutamente sì per voi donne che dovete pure lavare i panni che non è giusto beh ma qui non è che c'è tanto sporco si fa la lavatrice si fa anche si fa in fretta io sono un esperto lo sai lo so lo so Ponta davanti Ponta è uno uno che vuole fare ad esempio il circuito gravel qualora uscirà magari qualche gara in Italia posso dirti una cosa nelle prime gare gravel io sono convinto sì che ci saranno tante tantissime sorprese sì anche perché ci saranno tanti crossisti soprattutto se si parte subito ci sono delle voci che parlano appunto di organizzazione del nostro amico Giancarlo Brocci qualora Giancarlo mettesse una bella nuova eroica già ad inizio stagione scusami con un circuito finale tipo questo due o tre giri sì sì assolutamente tipo pista no assolutamente intanto vediamo Marco del mistero che ha avuto un problema auguri di stomaco auguri forza Marco capita a volte forse mangi qualcosa sì sì ci sta un Christian Leghissa che l'ho visto l'ho visto sdoppiato perché non ci vedo no no l'hai visto l'hai visto c'è c'è è tornato anche lui con il collocchio bionico tanto qua sono in tanti c'è Fruet c'è Zampese che sta tenendo molto bene invece si è già staccato un po' più indietro Daniele Braidot mentre davanti eccoli qua San Parisi Ponta Pederiva Fruet che si è avvicinato tantissimo guarda che trenino qua qua sì abbiamo quattro generazioni e anche dei Zampese io vedo un Fruet che ha la voglia di vincere questi sono i percorsi di Martino perché sono i percorsi dove bisogna essere molto esplosivi e saper guidare molto bene vedi Martino ecco io do un invito ai ragazzi parliamo anche poco adesso in questa gara guardate come affrontano questi tratti Martino Marco Ponta perché imparate e si impara tutto da questi qua ragazzi classe 1978 ragazzi 44 anni tra poco ma lo spirito è la proprio la caparbietà dei bambini e sono le cose più belle la passione che non è mai sciamata io trovo questo ragazzo eccezionale un modello da veramente imitare mentre tutti gli altri possono fare quello che vogliono ma per me questo è un campione dentro e fuori dallo sport lui comunque è amatissimo dal pubblico e dalla gente perché è rimasto uguale a quando vinceva le prove di Coppa del Mondo da giovani è uno che ha fatto la storia ha fatto la storia di mountain bike non solo poi si è approcciato al ciclocross poi corre in enduro corre in bike quindi ha provato tutte le discipline del fuoristrada tanta tantissima roba bravissima guarda ti voglio lasciare con una chicca Simone Pederiva proprio scritto sotto il post di Martino per me è stato un onore correre con tessis bellissimo bravissimo assolutamente anche perché questi ragazzi comunque sai vedono Martino come la storia e come anche un insegnante un maestro e questo è il terzo tempo del ciclocross eccola qui la volata finale con Simone Pederiva che riesce l'abbiamo vista la presa proprio davanti a beffare Martino Fruet però ricordo vent'anni di differenza terzo posto Marto Coponta quindi Lorenzo Samparisi arriva anche Fabio Zampese buona prova di Fabio ebbè quinto assoluto oggi quindi tendiamo il sesto posto di Daniele Braidot il settimo di Enrico Barazzuol il nono di Riccardo Costantini il scusate il nono di Manuel Casasola e quindi il decimo di Fabio Drusin intanto Moreno Pelizzon che vince tra gli amatori della fascia 1 è riuscito a staccare nel finale intelligentemente spetta un po' e poi dopo si prende il suo palco eccolo qua aspetta un attimino e infatti Moreno Pelizzon che vince tra gli amatori della fascia 1 in seconda posizione la maglia tricolore la vediamo di Nicolò Ferrazzo quindi Ivan Galante Marcello Campagnolo Flavio Vogrig Stefano Gasparetto Michele Iellina Mauro Rossi e arriva anche Cipriano Gottardi questo è il cadò tutto suo è tutto suo sì è l'ultima stagione da Elite quindi grazie grazie Gottardi poi aspettiamo un remaster però terzo tempo premiazioni anche qua un Roberto Dallavalle che lo stai veramente mettendo sotto pressione tanto il podio chiaramente degli Elite è questa della fascia 1 grazie di nuovo la linea lo studio quindi a te non è presente qui in studio per questione di tempo per questione di tempo ma lanciamo la linea la nostra Tina Raggiante che ci accompagnerà in un altro bellissimo evento che abbiamo seguito questa settimana vai Tina Olimpiadi 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 ricordatevelo bene sentirete le interviste di Luca Gregorio e Marco Cannone che parlano di Olimpiade e invece no perché Olimpiade è la madre di Alessandro Magno Nicola Argesi si sorriderà per la mia solita piccola pillola di storia e di cultura però insomma questa volta parliamo anche di una notte stellare davvero una notte dei campioni con pedala con il campione dedicata ad Alessandro Ballanna un'organizzazione perfetta quella di Maurizio Pivetta vulcanico organizzatore di questo evento che ormai da diversi anni si svolge a Jesolo e raduna davvero tantissimi campioni l'occasione anche per il ritiro della Eolo Cometa lì a Jesolo in quel di Jesolo insomma una giornata e una serata davvero importante grazie all'organizzazione appunto di Jesolo 88 che ha radunato in un sabato sera stellare come abbiamo detto e in una domenica davvero incredibile tantissimi campioni sentiremo al microfono di Nicola Argesi ovviamente l'organizzatore Maurizio Pivetta poi Luca Gregorio che è commentatore di Eurosport insieme a Marco Cannone ex corridore ed ex pistard e ovviamente scenario pieno per Alessandro Ballan poi ci sarà Marco Villa le sue parole ci hanno fatto davvero emozionare a ricordare quanto grande è stato l'impegno proprio alle Olimpiadi con il suo quartetto con quella medaglia d'oro incredibile che ci ha regalato l'Italia e poi i ricordi di Fraccaro che è stato un grandissimo gregario di Moser cose degli anni 70 quindi insomma i ricordi sono molto vicini a Nicola Argesi insomma godiamoci questa lunga clip dedicata a pedala con il campione da Jesolo è tutto a Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tanti amici che sono ciclisti di fama nazionale e internazionale. Abbiamo avuto l'onore di ospitare dall'inizio da Filippo Pozzato, Ivan Basso, Michele Scarponi, Gianni Bugno, Francesco Moser, Savoldelli e per ultimo l'ho tenuto Eddie Merckx che tutti conosceranno. Questa sera abbiamo l'onore di cenare con Alessandro Ballan. Ceniamo con lui, domani pedaleremo con lui. Perché è questo? Vogliamo conoscere i campioni, vogliamo pedalare con loro e far vedere il nostro paesaggio. Luca Gregorio, intanto sai già cosa penso di te? Tutto il bene possibile anche per quello che stai facendo come cronaca. Anche se per me esprimi il meglio con il calcio perché ho una passione esagerata. Detto questo, Ciclino sta veramente facendo molto anche con Eurosport, abbiamo visto, ma tu hai una crosta nella schiera come me, l'Elenia Razzaro. Ma che tipo è? Quanto ti fa dannare? Nicola, mi è capitata, non posso scegliere, hai capito? Non posso scegliere, mi sono ritrovata che Stilenia, vulcanica, sempre, ha sempre questo entusiasmo, bravissima, con grande competenza, eccetera. Di tanto urla, quindi bisogna mettersi un po' le parole orecchie, eccetera. E poi è fissata col ciclocross. Fissata col ciclocross? Niente, noi commentiamo alla strada, ma lei mi parla sempre di ciclocross. A parte tutto, però l'emozione che state creando in questi ultimi mesi è tanta roba, nel senso che fate partecipi anche i telespettatori come me che sono tiepido, non sono social, però ogni tanto mi viene da comunicare con voi perché riuscite a far appassionare anche quelli un po' meno caldi, un po' più tiepidi. Sì, sì, Ilenia, la risposta precedente era falsa, dettata da Nicola. No, sì, siamo contenti, a parte tutto abbiamo vissuto veramente il mondiale, l'olimpiade, gli europei, c'è una buona sintonia secondo me. La naturalezza, sempre la passione, l'entusiasmo, quindi l'aspetto emotivo è quello che è un po' la mia filosofia del fare telecronica, senza troppi voli pindarici, eccetera, e quindi con Ilenia credo che si lavori molto bene. L'ultima domanda, commentare un'olimpiade, credo che cambi la vita a tanti atleti, specie quelli che vincono, ma anche a chi commenta. Sì, però perché ci è capitato il quartetto della pista, sono sincero, cioè nel senso che le prove su strada mi hanno coinvolto meno, da potreste emotivo non sono state gare bellissime in assoluto, in un contesto un po' particolare, se non era il mondiale nelle Fiandre, no, in Giappone. Però effettivamente la pista mi ha e ci ha proiettato insieme a Marco Cannone in un'altra dimensione e lì per la prima volta nella mia vita, la sera prima non avevo dormito, piccola nero. Noi ti facciamo veramente tanti complimenti con in bocca al lupo perché ce ne sarà tanto da commentare. Sì, adesso un po' di riposo, però dopo a parte mondiale su pista e poi ci rivediamo nel 2022, grazie. Marco Cannone, quando ti vedo mi viene in mente veramente la Seggiorni di Bassano, non perché ne ero uno degli organizzatori, ma anche perché forse da là hai iniziato il tutto e poi dopo la domanda seguente sarà proprio quella della pista, dove ti vede interprete e soprattutto cronista. 1993, 94, 95, Seggiorni di Bassano, Uber Atlas perché davvero era un grandissimo evento in Italia, anzi credo il più grande evento di quegli anni che si aveva in Italia e si andava a ripercorrere un po' quelli che erano le sei giorni invernali in modalità estiva. C'era un grandissimo organizzatore, ricordo, sì sì, è fantastico. In realtà se ci ricordi che comunque le persone che hanno avuto questa grande passione oggi la raccontano ancora, tra poco andremo a vedere i mondiali, tra poco vedremo anche questa Champions League delle piste, che credo sia una cosa importante perché abbiamo visto un po' la decadenza delle sei giorni un po' in tutta Europa. Sì, con questo evento che stiamo ancora comunque trascorrendo di questo Covid non ha permesso agli organizzatori delle sei giorni, insomma di quelle più importanti, di riprendere ancora a organizzare sei giorni. È stata creata questa formula di Champions League e siamo tutti curiosi di vedere quello che ci potrà offrire. Prima passiamo dai campionati del mondo e siamo in trepida attesa, proprio perché insomma siamo ancora reduci da questi giochi olimpici che ci hanno visto davvero grandi protagonisti, soprattutto in una specialità dove c'è un grandissimo lavoro da parte del tecnico Marco Villa e di chiaramente di tutta la sua struttura e dei ragazzi che sono stati sempre disponibili, delle società, delle squadre e quant'altro e però abbiamo goduto veramente in quel 4 agosto 2021. Avete adottato in linea Lazzaro, abbiamo detto, insomma, tanta roba che lei è molto molto vulcanica come diceva prima Luca. Sì, riprendo un po' il discorso di Luca, sì effettivamente l'abbiamo adottata, cosa vuoi? Ognuno ha le sue, noi abbiamo in legna Lazzaro, Nicola, cosa possiamo farci? Ti capisco, ti capisco, grazie. Alessandro Bollà, intanto grazie per essere qui, insomma, a cena con il campione, tu mondiale, poi dopo anche su quelle belle imperie di gare che sono classiche, oggi abbiamo anche altri esponenti. Cosa ne pensi di quest'ultima vittoria alla Roubaix? Sicuramente è una vittoria che all'Italia mancava e soprattutto un grande Sonny Colbrelli che ha fatto un finale di stagione super con un campionato europeo e poi ha vinto Paris-Roubaix che è quella gara che a me sinceramente è mancata perché tre volte terzo, è logico che se guardo indietro la mia carriera mi avrebbe fatto gola aver vinto anche quella, anche perché in Italia aver vinto Fiandre-Roubaix-Mondiale saremmo stati veramente in pochi. Un mondiale non è mica da buttare via, quel 2008 è ancora incorniciato e penso che se oggi sei qui è perché la gente non lo dimenticherà mai. Ma diciamo che ho perso il Fiandre qualche anno fa da Alberto Vettiol, adesso Tafi ha perso il primato a Roubaix e speriamo che anche Alessandro Ballà possa perdere il campionato del mondo perché dopo 13 anni abbiamo bisogno che i colori azzurri, la maglia azzurra salga sul caldino più alto del podio. Marco devi perdonare l'età che avanza, insomma tu mi stai un po' di dietro nel senso che sei più giovane di me, quando ti vedo penso che sei giorni di Bassano, Allammi, tanti ricordi che hanno fatto tanta tanta roba. Posso dire che sei il più vincente dei CT? Quest'anno forse, dopo con tutto il rispetto per chi mi ha preceduto. È una bella stagione, ho sofferto perché un anno di rinvio, un'olimpiade non è stato facile, soprattutto con i ragazzi della nazionale che sono cresciuti. Il Ganna che ha vinto un mondiale, ha vinto le tappe al giro, è diventato Ganna e quindi insomma rivedere un po' i piani, riparlare con le squadre, riprogrammare la stagione, non è stato facile però insomma siamo riusciti nel miglior modo. Idee in movimento, io quando ho visto lasciare fuori i scartezini ho detto ma Milan, Milan diventerà qualcosa di incredibile, abbiamo visto un motore pazzesco. Sì, ho lavorato tanto sui giovani e dopo quando te li ritrovi l'anno dell'olimpiade devi fare delle scelte, però le scelte vanno fatte col cronometro e non col cuore perché sennò avrei portato tutti all'olimpiade. Però le scelte col cronometro sono sempre quelle più azzeccate perché mettono d'accordo tutti e l'inserimento di Milan, nonostante fosse un giovane arrivato in un gruppo già rodato, è stato ben accettato da tutti perché come ho detto, insomma il cronometro diceva che ci faceva guadagnare qualcosa e probabilmente ci ha fatto anche vincere. Musica Musica Simone Fraccaro, l'importanza di essere stati gregari di lusso negli anni 70 hai dovuto vedertela con i veramente grandissimi campioni ho ancora in mente Longarone in quel Giro d'Italia dove ti ha visto una vittoria strepitosa oggi Fraccaro dove sarebbe in una squadra, in che ruolo? penso sempre un ruolo di secondo piano per via del carattere che ho non avrei mai potuto fare capitano perché fisicamente il motore c'era però avevo troppi alti e bassi, non ero costante le male lingue, uno si chiama Mario Beccia, diceva che se tu ti fossi allenato come lui forse in più di un'occasione avresti battuto i grandi bigli di quegli anni non è proprio così, diciamo che io non potevo allenarmi molto mi facevano correre dappertutto perché essendo un corridore polivalente classiche, Giro d'Italia, Tour de France, pista, non serviva allenarsi, bastava correre il ciclismo è cambiato molto in proporzione a noi, sono molto più veloci, molto più preparati e più tecnici, noi eravamo come dei principianti in confronto a loro però c'era anche tanto spettacolo grandi lottatori, ogni tanto guardo un video di certe corse dove c'era il D-Merx battaglie tremende che abbiamo fatto, io so che ero là in mezzo e perciò a volte mi dico ma come facevo a stare in mezzo a quel mondo lì? Buona pedalata per domani? Sì, non so se ce la facciamo io e il Beccia a farla tutta, non siamo preparati Per Augusto tu forse non sai un ricordo che ho io di tanti anni fa a Forlì dove tu facesti due bellissime pagine sull'Anvi, sul Giro d'Italia delle Piste e io fui intervistato a te per la prima volta e per me ancora oggi è un ricordo importante perché tu sei importante per il ciclismo, l'hai raccontato in lungo e in largo, continui a raccontarlo con professionalità e quindi per me è un orgoglio oggi intervistare te e soprattutto sei il mentore del ciclismo Adesso mi imbarazzi perché in realtà sei importante anche tu quanto me perché chi si adopera per la promozione del ciclismo, organizzatori, giornalisti, qualsiasi, anche quelli che si dedicano il proprio tempo e le proprie ore di libertà per essere liberi tra le strade e magari con una bandierina a segnalare i pericoli o bloccare un'auto, tutti siamo importanti io temo che ultimamente comincino a mancare un po' di vocazioni, ecco spero che si faccia qualche pedalata in meno, lo dico soprattutto ai genitori che forse sono un pochino egoisti va bene andare in bicicletta però al sabato o la domenica portate i bimbi a fare le gare poi venite voi, poi andate a fare la Gran Fondo, poi vi ritagliate un piccolo spazio ma è fondamentale che i genitori tornino a fare i genitori, non quelli che devono vincere la Gran Fondo, è più importante dare una mano ai propri ragazzi e le proprie ragazze Hai toccato un tasto secondo me fondamentale, adesso abbiamo Dagnoni che lui ha detto ancora in tempi non sospetti che vuole trattare un po' la federazione come fosse una grande azienda e ci sta, però le grandi aziende hanno dei profitti e pagano anche gli operai l'80% invece del ciclismo è fatto di volontari, come si possono accontentare tutte queste realtà? Io credo che il Presidente ha una grande conoscenza del ciclismo forse a livello nazionale cominciano a conoscerlo adesso, ma lui viene da una famiglia di ciclismo ha corso in bicicletta, è stato anche un discreto corridore e quindi credo che nella sua testa, oltre a fare tra virgolette fatturato che è importante anche quello per una federazione per poter poi sviluppare e portare a termine dei progetti abbia bene in mente anche la visione di un aiuto per le società di base bisogna lasciargli un attimo di tempo, adesso non esageriamo io so che dietro la sua elezione in questi mesi, soprattutto dopo Tokyo sono divampate tante polemiche anche io non mi nascondo ho mosso qualche appunto più che altro di stile di tempi e di modi per un allontanamento che per me non era assolutamente necessario dell'ex ECT ormai, ahimè, Davide Cassane secondo me era una risorsa che andava tenuta tenuta in considerazione, sarebbe stata molto utile comunque io mi auguro che a questo punto si cominci a lavorare e che lavori la federazione che ha tutto per lavorare bene con Roberto Maddio e uno staff che conosceremo tra qualche giorno e lo stesso Davide Cassane che anche fuori dalla federazione comunque rimane della famiglia del ciclismo mi auguro, lo dico prima che ciò io spero che non avvenga che non ci siano dispetti che ognuno riesca a lavorare con serenità perché c'è bisogno di fare veramente squadra anche con quelli che magari sono usciti dalla squadra azzurra ma fai parte sempre della stessa squadra che è quella del ciclismo facciamo parte anche noi di questa squadra azzurra 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 Bene, grazie Tina e grazie a Nicola e a Gianni che ci hanno confezionato questo bellissimo servizio da Jesolo, tiro un po' le orecchie ai miei colleghi Luca e Marco, la pagherete cara, andiamo avanti però con il grande appuntamento della mountain bike di questa settimana, vale a dire l'APSA Cape Epic, ormai a scratch insomma sono parecchi anni che facciamo vedere un po' la sintesi e il retroscena di questa bellissima corsa a tappe in Sudafrica, quindi spazio a quello che abbiamo raccolto nei primi giorni della Cape Epic. Grazie a tutti! Amici appassionati di mountain bike, bentornati con l'APSA Cape Epic che dopo lo stop per pandemia ritorna con la sua diciassettesima edizione proprio in questo finale di stagione l'APSA Cape Epic Sudafrica, sono 600 i riders al via di questa corsa a tappe che durerà tutta la settimana, ovviamente noi andremo con gli highlights delle prime tre tappe e poi l'appuntamento alla settimana prossima con il resto. 620 chilometri da percorrere, 16.000 metri di dislivello per quella che è conosciuta come la gara clou del mountain bike a tappe, una gara copie, lo ricordiamo, il Tour de France della mountain bike. Con la sintesi andiamo al prologo, prologo di una ventina di chilometri, si partiva dall'università di Cape Town e poi si andava ad affrontare quella che è la Table Mountain, una delle vette più conosciute in questa zona, un percorso anche molto molto bello. Highlights prova al femminile con la svizzera specialista del marathon Ariane Luthi in coppia con la sudafricana Robin De Grotte, ricordiamo le due hanno vinto la Swiss Epic, Swiss Epic che abbiamo tra l'altro trasmesso proprio qui su Scratch qualche mese fa, per loro il terzo tempo, secondo tempo invece per Marix Strauss e Candice Lille, anche loro hanno una grandissima esperienza per quanto riguarda questa Cape Epic, più volte sul podio per le due atlete, entrambe sudafricane. Secondo posto per loro in questo prologo, Strauss e Lille. E le grandi attese alla partenza, vale a dire il duo della Songo Specialized Factory Racing composto da Sina Frey e da Laura Stiger, Sina Frey campionessa del mondo XCM, medagliata anche agli Olimpiadi, Laura Stiger una delle giovani atlete austriache più interessanti, stanno andando molto molto forte, miglior tempo per loro, vanno a vestire la prima maglia di leader per quanto riguarda la classifica femminile dopo questo prologo e sono senza dubbio le atlete da battere, visto appunto il parterre di ragazze e di donne al via. Highlights della gara al maschile, questa è la coppia del Canyon Nord Wave con il fresco campione del mondo Marathon Andrea Sevald, anche campione europeo, e Martin Stosek per loro terzo tempo, seconda coppia che conosciamo benissimo, Filippo Colombo e Yuri Zanotti. e qui invece siamo già sui vincitori del prologo, voglio dire l'ex campione del mondo Giordano Saru e Matthew Burs, 19 One Go, Sonigo Specialized, vestono la prima maglia, però c'è Italia perché c'è il bravissimo Yuri Zanotti della KTM che ricordo corre con lo svizzero Filippo Colombo. Prima tappa in programma per questa APSA Cape Epic che ricordo vedrà 300 team al via, sono 600 gli atleti, ci sono parecchie classifiche, noi ovviamente andremo con gli highlights solo dedicati all'overall, quindi all'assoluta maschile, all'assoluta femminile, ma ci sono anche tutta una serie di classifiche dedicate ai master e alle coppie miste. Ceris, una delle tappe più lunghe quella di oggi, con la salita di Deep Drop, una tappa difficile, dopo il prologo lo ricordiamo, abbiamo in maglia di leader Saru con Matthew Burs, in mente nelle donne, Sina Frey e Laura Stiger. Il tempo viene sempre preso sul secondo, quindi interessante da capire quello che succederà in questa prima tappa, 100 km, una delle tappe più dure, 1850 metri di dislivello, anche alcune discese impegnative. Cape Epic che è sempre una gara molto bella e molto apprezzata anche degli atleti che vengono dal cross country, l'anno scorso, anzi due anni fa, lo ricordiamo, fu poi vinta anche da Nino Schurter. Vediamo Stiger con Sina Frey in maglia di leader donne. Partono anche le donne. Il bello dell'Apsa Cape Epic è appunto che, essendo una gara itinerante, c'è anche tutta una serie di camp dove alloggiano questi atleti in tenda. Poi con i protocolli Covid magari quest'anno è un po' diverso, però è sempre stata una grande festa, c'è sempre un grande terzo tempo poi alla fine di tutte le tappe e questo è quello che succede alla Cape Epic. In caso di foratura o guasto meccanico, gli atleti devono arrangiarsi in autonomia, farne le spese Filippo Colombo con Yuri Zanotti che erano partiti molto bene, tra l'altro secondi nella classifica generale, perderanno qualcosina ovviamente oggi. Davanti abbiamo visti i leader Jordan Saru e Matthew Burs. Bellissimi i paesaggi che sono attraversati da questa corsa a tappe con dei trail anche molto molto belli, dove si può fare velocità. Davanti comunque abbiamo visto appunto il duo di Specialized, quindi Dimension Data, Bulls 1 e Canyon Nordwave in quarta posizione. Canyon Nordwave con la maglia iridata, lo ricordiamo, di Andrea Seywald, grande protagonista anche ai campionati del mondo, capoliveri. Abbiamo fatto uno skip un po' in avanti e andiamo proprio nel finale con i Bulls che praticamente fanno doppietta, primi e secondi. Martin Frey, lo ricordiamo, Simon Steyban. Il podio con in terza posizione Canyon Nordwave, quindi Bulls due in seconda posizione, Bulls uno con Urs Huber. Vincitori, sempre leader Specialized con Saru e il sudafricano Matthew Burs Garadonne. Primi 40 chilometri tutte insieme, poi se ne vanno loro due le leader Sina Frey e Laura Stiger. È stato un po' un assolo anche quello della prima tappa del duo di Specialized che ricordo ha allungato la stagione per Sina Frey, una stagione fenomenale, il podio delle Olimpiadi, la vittoria ai campionati del mondo di XCE, il podio anche nel cross country. Ed eccole qua Laura Stiger e Sina Frey, sempre più leader già dalla prima tappa. In seconda posizione la Luti con Robin de Grot e in terza il team faces CST, arrivate a circa un minuto e 55 dietro. Gara sfortunatissima invece per coloro che ieri erano andate molto molto forte, vale a dire Marek Strauss e Candice Lille, vittime di una doppia caduta. La seconda tappa di questa Apsa Cape Epic è un po' la tappa regina. Gli atleti hanno lasciato la Ciris Valley e si sono addentrati verso le montagne. Una tappa di 96 chilometri, una tappa dura, 2.100 metri di dislivello da percorrere. Una tappa che sarà sicuramente corsa ad altissimi livelli fin dall'inizio. Eccoci qua con la planimetria. Come vedete spasserà il guido pass. Un po' un su e giù continuo che porterà appunto gli atleti verso l'arrivo. Cima Coppi, l'ex Cima Coppi, su strada 1.158 metri e quindi una bella discesa verso Saronsberg. Gara uomini con Jordan Saru, Matthew Bers, sempre in maglia di leader. Andrea Seivald in maglia di campione del mondo per Canyon North Wave e poi Atleti Bulls da tenere d'occhio. Sfortunati, lo ricordiamo, Yuri Zanotti e Filippo Colombo, grandi protagonisti del prologo, ieri frenati dalla rottura del deragliatore. Parte anche la gara donne, sempre leader Frey e Stiger. Vedete un po' come alcuni atleti hanno optato per la sacca idrica. Tra l'altro è una grande discrepanza di temperatura dalle fasi dalla notte alla partenza. Spesso partono col giubbino di mattina e poi eventualmente alleggeriscono. Qui oggi temperature già un po' più gradevoli con il gruppo Compra Compatto. e con gli highlights facciamo un salto in avanti. Il trenino di atleti della gara maschile con la Canyon North Wave che sta cercando di forzare. Canyon North Wave che ricordiamo è seconda nella classifica generale. Deve cercare di attaccare i leader della 91 Sogo Specialized per cercare di riprendersi la leadership. Guadi da affrontare. E ancora vittoria però per Jordan Saru e Matthew Burs anche nella seconda tappa. Mentre la lotta per la seconda posizione ormai è per Canyon North Wave con Andrea Seywald e Martin Stosek. Terzo posto per Urs, Uber e Simon Schneller del team Bulls che pagano un minuto e 46. Questo è il podio maschile. Vi ricordo però seguiteci la settimana prossima perché ovviamente andremo avanti con la terza, dalla terza tappa in poi. Sempre un piacere comunque commentare la grande mountain bike e soprattutto questa Apsa Cape Epic. Alla fine della seconda tappa sempre leader Jordan Saru con Matthew Burs. Garadonne, gruppo compatto fino a un certo punto, poi ovviamente a farla da padrone. Chi ci può essere? Se non le leader, vale a dire Sina Frey e Laura Stiger. Eccole qui. Vincono anche la seconda tappa su Ariane Luthi e Candice Lille. Sofì De Grot. Quindi CST in terza posizione. De Grot e Luthi in seconda e Stiger e Frey in prima. Appuntamento la settimana prossima con il resto dell'Apsa Cape Epic. Appuntamento la settimana con il resto dell'Apsa Cape Epic. Questo weekend è stato anche il weekend della seconda tappa del Giro d'Italia di ciclocross da Sant'Empidio al mare. Immagini di Christian Baum, Atlantide Video Service. Via con il Giro d'Italia di ciclocross. Seconda tappa del Giro d'Italia di ciclocross. Siamo a San Pempidio al mare e insomma fermo. E io qua direi tante cose. Fermo. Io mi ricordo quando ero piccino che andavamo in Puglia a villeggiare, tanto per darci le aria, non è vero. E c'era la stazione di fermo e dicevano fermo. Stazione di fermo. E ho questo ricordo di questa bellissima città che oltretutto oggi onora e si fa onorare con tanti atleti che li vediamo tutti qua. Questa è la sintesi della gara amatoriale. Quindi amatori fascia 1, fascia 2, donne master, fascia 3, con le maglie rosa che hanno conquistato questi atleti ad Osoppo. Antonio Maculli per il team Cingolani è il leader della fascia 2. Massimo Folcarelli è il leader della fascia 2. E invece Maculli della fascia 1. E poi c'è Sabrina Di Lorenzo in maglia di leader per quanto riguarda le donne master. Il rientro anche dei fratelli Kobo, che ho un bel ricordo anche con loro. Sono stati a lì da tantissimi anni. E facevano tanti chilometri quando c'era soltanto il trofeo Triveneto. Per fortuna oggi non possiamo più dire soltanto. Ci sono arricchiti e noi speriamo che il trofeo Triveneto sia sempre più importante. Sabrina Di Lorenzo con Giulia Ballestri. Questo è il duo di testa per quanto riguarda le donne master. Mentre abbiamo visto davanti Maculli e via via tutti gli altri. C'è Felice, c'è Caracciolo, c'è Trovarelli, c'è Matteo Cancherini. Insomma, gli atleti che abbiamo imparato a conoscere negli ultimi anni. OP Bike insieme alla ASD Romano Scotti. Voglio soltanto spezzare una lancia, indipendentemente dalle cose che si possono dire. Lo scorso anno, ricordiamocelo, questo signore qua insieme al Frosso Scotti hanno salvato il Cinco Cross. Sì, anche perché sono state le uniche gare che si sono corse e non sono state cancellate. Ma soprattutto fate un calendario completo. Sì, sì, assolutamente sì. Anche questo, regole veramente ferree. Noi siamo felici di commentare oggi con le maglie un po' più allargate. Un senso di normalità. Però teniamo conto degli uomini, come la stessa nostra trasmissione che è andata in onda sempre, in maniera puntuale e live, diretta, perché andavamo a raccontare le cose che succedevano veramente. Insomma, questo deve pagare. Eh, questo dovrebbe pagare. Bisognerebbe ricordarselo, perché appunto, ripeto, a parte che la pandemia non è ancora passata, quindi comunque bisogna sempre tenere assolutamente le orecchie alte, essere sempre vigili, rispettare le regole. Ricordiamo questa prima gara anche qui con il protocollo, serve il Green Pass per partecipare a queste gare, come giusto che sia, come è del resto a livello internazionale. Quindi non è che è stato fatto chissà che cosa strana. Si fa quello che io, e tu lo sai meglio di me, io e Gianni che siamo andati in giro per il mondo, o con Cristian Bohm che siamo andati in giro per il mondo, di tampone ne abbiamo fatti più di una cinquantina dall'inizio della pandemia. Roba da cambiare anche i connotati del naso. Eh, direi di sì. Giulia Ballestri al comando per quanto riguarda le donne master. Giulia aveva fatto seconda, se ti ricordi, a Jesolo, proprio involata con Chiara Selva. Oggi è al comando. Un percorso bello questo di fermo, anche abbastanza duro, questo è un tratto in salita. Da affrontare. Sono quelle pendenze che sembrano quasi, sai... Sembrano semplici, però restano assolutamente sulle gambe. Tanta gente anche qua, insomma, un po' di pubblico, un po' di interessati. Eh sì, il ciclocross è quello, ci sono tanti addetti ai lavori poi. La lotta davanti con Antonio Macculi e Leonardo Caracciolo. C'è anche Samuele Agostinelli, c'è Mattia Zoccolanti e Fabrizio Trovarelli. E diamo il benvenuto anche SLSMP, che dopo un dominio veramente di un altro sponsor, oggi approda anche il Giro d'Italia di ciclocross. Eh sì. Tanto sarà interessante capire quello che succederà negli amatori della fascia 2, anche se penso che ci sia davanti. Niente po' di meno che Max Folcarelli. Vabbè, ma quello è un fenomeno. Io credo che non sfigurerebbe in una gara con gli Elite. No. Non arriverebbe ultimo. Assolutamente no. Antonio Macculi intanto davanti per gli amatori della fascia 1. Ha un po' di margine nei confronti di Leonardo Caracciolo e Samuele Agostinelli. Sono i tre battistrada della fascia 1. Anche qui comunque un percorso che bisognava abbastanza rilanciare, se vedete anche abbastanza curve. Poi tra l'altro anche un fondo sconnesso. Eccolo qui, l'atleta del team Cingolani. Corre praticamente in casa. E va a vincere anche la seconda tappa. Lui che è un Elite Master Sport, quindi è un ragazzo giovane. In seconda posizione Leonardo Caracciolo. Eccolo qui. In terza Samuele Agostinelli. Quindi Mattia Zoccolanti, Fabrizio Trovarelli. Matteo Cancherini, Giovanni Gatti. Massimo Folcarelli vince tra gli amatori della fascia 2. E conferma ovviamente la maglia rosa. Una rosa azzurra. Rosa azzurra, esatto. Bellissimo comunque. Alberto Laloni in seconda posizione. Biagio Palmisano in terza. Sergio Scotti, sempre lì a controllare giustamente tutto. Quindi Giulia Ballestri per le Master Donne. Su Sabrina Di Lorenzo. E Flaminia, Ursino, Soligo. Questi sono i podi. E grazie ancora per la vostra partecipazione ai Master. Foccarelli, insomma. Di casa a Roma, eh? Eh sì. Tra l'altro organizzatore dell'Azio Cross. Questa è la gara delle donne Master. Anche lo scorso anno è stato uno dei protagonisti. E Daniele Peschi con la Vanessa Casati e Fausto. Bello rivedere anche Daniele. Eh sì. Tornare a correre. Andiamo con la sintesi degli esordienti. Uomini. Uomini. Eh qua tanti. Perché gli esordienti erano tanti. Abbiamo visto prima proprio di Sonzo. E qua anche. Sì, beh i numeri sono sicuramente in grande crescita i numeri delle categorie giovanili. E come ho detto prima, ben vengano anche quest'anno, in un anno un po' difficile anche dal punto di vista dei protocolli, riuscire un po' a spalmare le varie gare. E qua davanti, insomma, Deon, lo vediamo in seconda posizione. Con la maglia di campione italiano. Sì, ragazzo molto promettente. Bene anche Nicola Cerame, Aaron Scuderi. Questi sono i ragazzini. Gregorio Acquaviva. Maglia rosa. Vediamo un po' indietro, intruppato un po' Acquaviva adesso. Mamma quanti. Tanti tanti. Un bel trenino di ragazzini. che invece di fermarsi, cosa fanno? Vanno a divertirsi in un campo all'aperto. Sì. Quindi. Ma poi rimangono là. Poi rimangono lì. Poi giocano con gli amici. Guardano le altre gare. E non ho visto un telefonino, credimi. Vabbè, ma perché comunque è una festa, no? Ma che festa? Ma è anche trovarsi. È un ritrovarsi, è una festa. E comunque ci si diverte nel ciclocross. Chi prova il ciclocross poi si diverte, assolutamente. E forse è questo che fa paura ancora a quei team manager, quelle squadre che sono vecchio stampo, che non vogliono portare i ragazzini a fare il ciclocross. Troppo abbottonati, troppo... No, sai cos'è? Che poi quando un ragazzino lo prova, vuole tornarci. Ma è logico, perché si trovano in tanti. Sono là. Ma intanto salutiamo anche lui, è stato un campionato. Un pezzettino di storia dell'Italia. Ma il ciclocross è così, eh. Io spesso anche quando sono in telecronaca ricordo come ad esempio in Coppa del Mondo tu ti trovi vicino a Pontoni, Bramati, Sven Ness, Vanturnaut, Lars Baum adesso. Quindi è la stessa cosa anche qui. C'è Bartoli che porta a una squadra, eh? Michele. Perché era Pellizzotti e non c'era la figlia. Pellizzotti ha la figlia. Non lo so. Questo è. Gli ho sempre detto che prima o dopo domineremo il mondo. Quanto bella è questa ragazza. Mamma mia. Eh, la Sara è cresciuta, ecco. Lei l'ho vista veramente da piccolina. Piccola, piccola. Tutte belle. Si stanno scaldando le donne allieve. Anche lo stereotipo che le donne andavano in bicicletta. Ma dai, ma dai. Intanto Deon all'attacco. E tu sei stata a Miss Italia anche. Non ricordiamolo. Deon all'attacco. Eccolo qui. E vince. Vittoria, grazie. Pietro Deon della San Fiorese. È scattato nel mondo giusto. Sì, sì, ha fatto uno scatto devastante. Seconda posizione Nicola Cerame, Castellettese. Quindi terza posizione per Aaron Scuderi della Cardaro. Pensa quanta strada hanno fatto da Cardaro. Quindi dall'Alto Adige. Mamma mia. Altro figlio d'arte, Patrick Pezzo Rosola. Elas Monteforte. Ho incontrato sua mamma nel servizio che abbiamo visto poco fa. C'era anche Paolo Rosola. Ma c'era anche Paolo Rosola. Ma c'era anche Paolo, sì, sì. Vincenzo Carosi in quinta posizione. Maglia rosa di Gregorio Acquavigva in sesta. Quindi Cascione, Cavalli Villa e Andrea Tarallo in decima. E questo è il podio. Ho intervistato tanto, però la Paola Pezzo non lui. Mi dispiace. E dobbiamo tirarti gli orecchie. E no, beh, insomma, dai ragazzi. Tanto allieve donne. Deon è la nuova maglia rosa per quanto riguarda gli allievi. Donne allieve. Ed esordienti. Ed esordienti insieme. Che felicità. Guarda che belle facce. Sono tutta contenta. Vabbè, vabbè, perché comunque, ripeto, si divertono. Sono amiche, si divertono. Stanno insieme. Abbiamo perso questo. Io sono stato intervistato da Radio Godot. Stamattina ho detto questa roba qua. Abbiamo il Covid. O la pandemia doveva insegnarci qualcosa. Invece ci ha fatto diventare ancora peggio. E forse abbiamo la possibilità di far vedere in tutta Italia, grazie anche a Bike, quello che è il ciclocross che spesso non si vede. Tanti però stanno facendo vedere. Mi dispiace non poter mettere in onda le gare dei professionisti perché ci sono delle esclusive. Ma che significato ha portarle poi due o tre settimane dopo se vanno in onda, se non vanno in onda? Cioè, io credo che ci vada un po' più di coraggio. Sì. E il coraggio è investire anche... Più si vede, meglio. Sì, deve vedersi. Qua stiamo parlando di scuse di cosa? Qua stiamo promuovendo un'attività che è assolutamente indispensabile d'inverno. Ricordiamo, adesso si parla di luoghi chiusi, luoghi aperti. Noi dicevamo dieci anni fa sempre non ci sono mai beccati un'influenza nel ciclocross. Mai. Perché fa gli anticorpi, perché comunque si è abituato e comunque si è abituato dall'inizio dell'autunno e poi troveremo delle situazioni di neve come abbiamo trovato l'anno scorso a Nalles. Troveremo di tutto di più, freddo. Però questi ragazzini sono... E queste ragazzine in questo caso si divertono così. È giusto lasciarle divertire. E cronaca. Andiamo con la cronaca. Elisa Bianchi, Tim Python, Nicola Zetti, Giorgia Pellizzotti per il GS Mosoli. Attenzione davanti. Quanto riguarda le donne allievi, Anita Baima, Rianna Bianchi, Bianca Perusin. Queste sono le ragazze che abbiamo visto appunto nelle prime posizioni. Anita Baima, lo ricordiamo, in maglia tricolore. Sorgente Pradipozza e la sua squadra. E vedi, si impara. Adesso qualcuno appunto non è ancora molto... Insomma, destra a... Ma chi se ne frega? Ma impareranno. Impareranno. Quindi è importantissimo per loro perché poi gli servirà anche nella stagione estiva di mountain bike o di strada, ecco. Ecco la situazione davanti con la maglia tricolore, l'abbiamo vista, di Anita Baima, Rianna Bianchi. sono tutte lì. Anche qua tanto di P66 si sono sdoppiati. Eh sì, doppia attività per parecchie squadre. Anna Auer, che altro non è che la sorella di Sofia Auer. Giulia Rinaldoni, Lisa Ferri, vedi qui, Linda Sanarini. Qua ci sono famiglie intere che corrono. Forse il bello del cross è questo. E trovano un momento di condivisione, no? Perché ci sono tutte le gare dalla mattina alla sera, corrono tutte le categorie. E questo è anche forse il risultato del successo che ha il ciclocross negli ultimi anni dal punto di vista dei partecipanti. C'è gente che cerca le saghe come se fossero sei oramai dimenticate da anni, sono un po' come i rinoceronti scomparsi. Andate a vedere dove fanno le gare in ciclocross, ma non soltanto gli appassionati, anche le persone normali che abitano lì vicino. Sì, anche perché c'è sempre di solito il tendone per mangiare. Guardate qualcosa, qualcosa di diverso. Dopo due o tre volte, sia amici, nel senso, non voglio essere ipocrita, qua c'è gente che se ne dà anche se si critica, vabbè, ma a noi non ci interessa. Però nella grande maggioranza è un mondo diverso da quello su strada. del ciclocross. Sì, no, è un mondo completamente ma guarda, è più contemplativo. Poi vedremo, insomma, si vedrà chi metterà in onda la gara delle Open, c'era anche Jessica Pelizzaro che lei viene dal mountain bike e ho proprio letto con piacere le sue parole sui social, è rimasta affolgorata dal ciclocross. Un mondo completamente diverso, se proprio divertita, in effetti il ciclocross è anche diverso dal mountain bike, proprio è completamente diverso, un mondo un po' assestante. Grandi donne, anzi, voglio dire che sul libro dei record del Guinness dei Primati, quello grosso, voglio dire, c'è anche Anna May con il 40k dello scorso anno e l'hanno messa in bella mostra, non è mai successo e siamo contenti come Unione Cicliste 2000 che abbiamo organizzato ma soprattutto per i bambini farfalla i quali hanno bisogno di visibilità e hanno bisogno di solidarietà. Tanto la gara delle donne allieve è una gara ancora abbastanza cucita con Anita Baima, Rianna Bianchi, Bianca Perusin, Anna Auer, Giulia Rinaldoni, Elisa Ferri, Linda Sannarini, sono un gruppetto un po' da gara su strada come possiamo vedere. Sono ancora gare veloci. E' un'attrice temperoni, sì, sono gare ancora veloci. Poi dopo il centro e il sud Italia non possiamo mica pretendere il fango, beh, poi tutto può succedere. Oddio, abbiamo visto anche percorsi, se ti ricordi Ferentino è sempre un percorso che di solito ha parecchio fango, però ovviamente era asciutto anche a Gorizia e è asciutto anche qui a Fermo. Io ricordo soltanto l'unica gara dove ho visto nuotare i corridori a Scorzè tipo nel 2006. Sì, sì. Qualcosa di incredibile. Me lo ricordo benissimo. Me lo ricordo benissimo. Biciclette in spalle, fasi finali, la lotta tra la campionessa italiana. Esatto, tra Anita Baima e Arianna Bianchi, una categoria allieve. Sono allieve primo e secondo anno, poi c'è anche qualcuna che è fora o che rompe e qui il cross ti insegna a non mollare mai. Bella corsa, perché correre non è facile e tu me lo insegni. Esatto, però serve. Intanto la lotta tra gli esordienti tra Giorgetta Pelizzotti, figlia d'arte anche lei, Elisa Bianchi, altra ragazzina che secondo me ci farà divertire negli anni perché ha veramente tanta tanta grinta. Penso che ha più grinta di Franco, la Giorgia. Mi viene in mente Luca Pavanello che è sempre stato sensibile alla multidisciplina quando correva lui negli anni 90 tra sei giorni e strada si divideva e quindi anche qua copia e incolla fa far cross e questa roba qua. Esatto. Insomma, l'ultimo giro dovrebbe essere. Sì, dovrebbe essere l'ultimo giro con il due di testa Baima Bianchi dietro Bianca Perusin Anna Auer quindi Giulia Rinaldoni Lisa Ferri Linda Sanarini Beatrice Temperoni che oggi fa un po' fatica la maglia rosa e la Sanarini con la maglia del Vò Società storica Società storica ha lanciato tanta gente l'ultima Sofia Beggin bei sorrisi i primi piani di Zappacenere e questa è la lotta per la vittoria sarà una volata anche stretta secondo me fra le due con Anita Baima davanti che è una cattiveria mamma mia incredibile e va a vincere l'atleta della sorgente Pradipozzo Anita Baima su Arianna Bianchi cattiveria sportiva ovvio cattiveria agonistica arrivano stremate qui sei con i battiti non fuori soglia di più stop subito orologio terzo posto per Bianca Perusin brava Bianca quarto per Anna Auer quindi Giulia Rinaldoni Elisa Ferri Linda Sanarini Beatrice Temperoni perde la maglia Beatrice Temperoni nuova maglia rosa Arianna Bianchi per quanto riguarda le allieve vediamo le esordienti guarda l'abbraccio vedi fra avversarie bellissime queste cose qui non le vedi sai da tante parti in tanti sport poi bisogna essere anche sensibile Fabio in questo è molto molto sensibile sa andare a cogliere i momenti perché è stato un corridore eccola qui attenzione la volata tra la Pellizzotti e Elisa Bianchi esce davanti la Bianchi ma guardate qua cosa fa Giorgio Pellizzotti no no incredibile con che grinta ma grande lei ti mangia i risi in testa guarda non lo sapevo avrebbe vinto poco in quella piccola salita hai visto la sua determinazione bellissima Giorgio Pellizzotti Giasse Mosole batte Elisa Bianchi che comunque si riconferma maglia azzurra rosa azzurra Nicola Zetti in terza posizione grande vittoria eh sì eh sì emozionante emozionante bravissima adesso attaccheremo con i podi ma insomma una volata incredibile io non so come abbia potuto farla proprio di occhio da pistard sì brava 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 proprio non ha mollato è dato anche il colpo di Reni ecco i podi e le maglie di leader ricordiamo siamo solo alla seconda tappa quindi sarà un viaggio molto lungo eh sì sette tappe se non sbaglio si toccherà anche la Puglia andiamo con la sintesi della gara allievi anche qua bel numero di atleti 67 allievi al primo anno e 53 al secondo siamo più di 110 allievi cioè ragazzi nella gara su strada no le gare su strada non hanno mica questo numero no 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 infatti le gare su strada ho visto 60 30 40 sì anche qua una bella lotta e gli allievi è ancora più positivo perché è sintomatico ma gli allievi che resistono sono tanti così credo che sia molto importante è importante perché poi avremo dei tanti junior caduto da Rios scivolato in questo questa curva riprende subito l'importante è poi da junior perché il problema è che poi da junior a under li perdiamo e quindi speriamo che su 200 allievi restino almeno 150 junior e che poi almeno 50 under ci restino a fare il ciclocross invece di solito siamo a 200 allievi 100 junior e poi under restano i 25 facciamoci delle domande quando all'estero abbiamo Vanert Van Der Poel ma posso farti anche degli altri esempi perché poi tutti mi dicono tiri sempre fuori Vanert e va bene ma se quello è tiro fuori Tim Merlier che comunque non è che Tim Merlier sia il Van Der Poel tiro fuori Pitcock beh Pitcock è già un campione ma tiro fuori Vermesh che ha fatto secondo la Roubaix ha fatto ciclocross fino a due anni fa cosa stiamo parlando e me l'ha detto che parli sempre ciclocross anche Luca Gregorio me l'ha detto è certo perché così faccio apposta è così cattiva però certo lo faccio apposta immagini dall'alto di Christian Bong immagini dal basso di Zappa Cenere queste sono immagini spettacolari Darius Fabbro Proietti Pavi Baruzzi Longoni questi per gli allievi al primo anno Viezi Travella Bonafini Montagnare De Longhi Ghiarione Urzella Bosio per gli allievi al secondo anno immagini col drone ci fanno vedere un po' il percorso dall'alto molto molto secco tra l'altro mi sembrano quasi dei segni maia guarda un po' si sembrano sai quei segni che fanno con le pannocchie infatti comunque ci dà l'idea del lavoro che devono fare gli organizzatori e i volontari io dico sempre che la base va rispettata per quelli che tirano le fettuccine che mettono con i martelli paletto per paletto anche perché posso dirti che qualche organizzatore di gare molto più rinomate di strada dovrebbe imparare dal ciclocross come si mettono gli striscioni e assolutamente le fettucce oltretutto gli striscioni metterli sul ciclocross vuol dire tanta fatica perché non è mica tanto agevole no non è agevole no per niente era bella bello questo rettilineo meno un po' più per sfogo è un percorso misto se vediamo ci sono alcuni tratti dove bisogna rilanciare ci sono alcuni tratti in salita ci sono dei rettilini dove si può spingere quindi diciamo che c'è insomma una buona possibilità di emergere credo che i percorsi forse un po' più duri verranno dalla terza tappa in poi l'avvicinamento è anche giusto non essere troppo fenomeni adesso ovviamente abbiamo anche tutti gli atleti che sono reduci della stagione magari su strada che hanno un po' di sono un po' agevolati in determinati percorsi poi man mano che andiamo avanti cominceremo a trovare il maltempo cominceremo a trovare il fango ed è un'altra corsa assolutamente eh sì abbiamo sempre detto il ciclocross è una di quelle discipline che il protagonista è proprio il tempo eh sì Dario Asfabro Proietti Pavi Baruzzi Longoni Sperangeli del Cucina questi gli allievi al primo anno al secondo altra caduta ci sta perché comunque il percorso è così veloce che si può quindi anche cadere eh sì succede intanto vediamo nulla di grave davanti Stefano Viezzi con Nicola Stravella e Lorenzo De Longhi un trenino Mattia Mattia Stenico penso che si sia rialzato subito eh sì sì sono rimasti in cinque per la vittoria tra gli allievi al secondo anno anche questo anche questo saliscendi qua è difficile 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 scusare Ursella Bosio un'altra caduta continuano scivolate Bertini si è rialzato come basta che non hai un po' di grip ma lì devi anche mettersela sulla spalla come fanno altri compagni esatto trascinare la bicicletta non è mai bello anche qua non è una bella cosa bisogna imparare vedrà le immagini vedrà che gli altri ragazzi meglio sulla spalla sempre sempre meglio sulla spalla e c'è un modo assolutamente sì nel frattempo questi sono ancora gli atleti al primo anno abbiamo visto Morgan Dubini mentre eccole qua la gara anche tra Stefano Viezzi ha preso un piccolo margine nei confronti del campione italiano Nicola Stravella ma sono quei margini di vantaggio che qua fanno male sì anche perché siamo nel finale Viezzi in maglia rosa Viezzi che aveva già vinto a Usoppo la prima tappa è vicino la vittoria manca pochissimo siamo praticamente alla fine dell'ultimo giro denti stretti cerca Travella di andargli sotto ma non ce la fa perché ormai siamo bella vittoria ragazzi bella vittoria sì Stefano Viezzi di P66 vince tra gli allievi al secondo anno su Nicola Stravella in terza posizione Edoardo Bonafini sono arrivati tutti lì i doppiati all'arrivo mettiamo sempre una persona Andrea Montagnere in quarta Lorenzo De Longhi in quinta Giacomo Ghiaroni in sesta quindi Leonardo Ursella che batte Tommaso Bosio arriva anche Mattia Stenico e Stefano Sacchetta per i primi dieci abbiamo visto la vittoria di Riccardo Darius tra gli allievi al primo anno eccolo qui San Fiorese su Ettore Fabro lasciamo libero però sempre l'arrivo la liturgia dell'arrivo è importante e fondamentale anche qua impareranno dagli errori anche perché ragazzi se vi smaltate sotto l'arrivo poi chi deve fare le immagini fa fatica in seconda posizione abbiamo visto arrivare col 131 eccolo qua in maglia rosa Ettore Fabro quindi Mattia Proietti in terza posizione in quarta Giulio Pavi degli Innocenti in quinta Francesco Baruzzi quindi Longoni Serangeli del Cucina Braffa e Sanarini e li hai nominati tutti io adesso guardo il podio guardo il pubblico ti ricedo la parola in studio a te cara Elenia e grazie per il commento Grazie per la visione Siamo giunti al termine amici di Screccio è stata una puntata lunga ricca di gare l'appuntamento che vediamo è sempre al giovedì alle ore 21 e dalla settimana prossima si riaccende il canale 214 di Sky quindi avrete veramente la possibilità di vederci dove e come volete saremo a Bolzano per la gara nazionale organizzata da nostro amico Nino Lazzarotto e da tutto l'entourage del comitato Alto Adige non saremo solo lì quindi continuate a seguirci buona serata a tutti e ci vediamo alla settimana prossima Sostenibilità Rispetto per l'ambiente Design italiano dal 1968 Epoca Spa Nebulizzatori Pompi a pressione e tutto per il giardinaggio Epoca Spa visita il nostro sito www.epocaspa.com Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.